quasi preso per la maglia si in effetti poi c'è stato anche uno stacco ma il contatto c'è stato e soprattutto il fatto che Cesari fosse vicinissimo al contatto fra i due lascia supporre anche se replay televisiva non è stato chiarissimo che l'intervento falloso ci sia stato intanto vedete che signori se la prende con Mikhailovich che è andato a rettificare il pallone messo sul dischetto Nervi a fior di pelle e vedete che Cascoggi va a tranquillizzare il compagno ora è l'arbitro che sistema direttamente a terra il pallone rettifica a sua volta signori che batterà quasi da fermo Fisca l'arbitro signori, gol! Lazio in vantaggio, ventitraesimo del primo tempo signori vedete la sua esultanza che testimonia in modo palese come il carattere di questa sfida sia tutt'altro che amichevole Lazio in vantaggio con gol su rigore di signori con questo risultato la Lazio si aggiudicherebbe il trofeo